provati dalle fatiche della battaglia nell'accampamento i soldati riposano post prelium milites incastris requiescunt dopo la battaglia post prelium incastris nell'accampamento milites i soldati requiescunt riposano tam acriter pugnatum est si è combattuto pugnatum est tam acriter così aspramente ut omnes defessi sint che ut omnes tutti defessi sint sono stanchi i nostri hanno avuto la meglio ma cesare non nasconde le difficoltà della battaglia ad primo nostri timoris pleni erant ma all'inizio ad primo i nostri nostri erano pieni di paura timoris pleni erant adeo ut mayor pars eorum signa dimitterent al punto che adeo ut la maggior parte di loro mayor pars eorum signa dimitterent abbandonava le insegne la situazione sarebbe precipitata se cesare non avesse schierato altre legioni tantus erat numerus ostium era così grande il numero dei nemici numerus ostium i nemici erano così numerosi ut reliquas sex legiones pro castris inace constituerim che ut feci schierare inace constituerim reliquas sex legiones le rimanenti reliquas sei legioni sex legiones davanti all'accampamento pro castris that's all folks